carissimi amici e amiche siamo tornati con il ciclo di catechesi dedicato al libro di teneramata giunto alla dodicesima puntata io riuscirei rapidissimamente la lettura perché il tredicesimo capitolo dove siamo arrivati è abbastanza ampio e quindi richiederà un pochino di attenzione un pochino di tempo anche perché è il capitolo in cui si comincia a parlare esplicitamente della quinta dimensione che è uno dei punti fondamentali di questo testo di questa di questa opera e quindi non è il caso di soffermarsi su introduzioni troppo lunghe ma è bene procedere con la massima rapidità possibile alla lettura amici ricorderemo facciamo sempre un pochino di mente locale quello che abbiamo visto la scorsa nella scorsa puntata molto molto bello no ci siamo lasciati con teneramata e riccardo che stanno ancora a san luipo così rievocando fondamentalmente o meglio non rievocando ma rivivendo per quei prodigi appunto tipici della quinta dimensione che questa sera cominciamo a vedere ciò che successe diversi anni prima cioè il momento dell'incontro tra appunto riccardo e questa misteriosa ragazza che cantava questa canzone che fece nascere in lui i primi moti dell'amore riprendiamo la lettura per poter intravedere meglio il complesso universo spiegò teneramata sono insufficienti le quattro dimensioni che conosci lunghezza larghezza altezza e tempo con esse da sole devi far fronte a problemi incompatibili con la divina sapienza e con la tua stessa ragione faccio una piccola parentesi una piccola prima sosta le nostre dimensioni della vita terrena sono queste abbiamo già visto la lunghezza la larghezza l'altezza e il tempo lo spazio che sappiamo lo spazio a tre dimensioni altezza larghezza e lunghezza o profondità no i film in 3d oltre che alla lunghezza e la larghezza hanno anche la profondità no e poi ci abbiamo il tempo a cui come ben sappiamo stiamo legati come gli schiavi alla catena che è l'istante attuale però questo vale per la vita di qua ma per entrare nelle dimensioni dell'universo queste quattro dimensioni sono insufficienti per esempio per comprendere come mai quel corpo di bambino si trova in quel paratempo del passato andiamo adesso a continuare la lettura perciò non comprendi la presenza del tuo corpo di bambino in questo paratempo del passato ne riesci a spiegarti come mai sia possibile che l'altissimo innamorato delle sue creature permetta il loro logorio o distruzione inoltre ti è sempre sembrato un consumo inutile uno spreco assurdo l'annichilimento della bellezza dell'amore delle opere del lavoro umano dei tuoi cari dei complessi organismi viventi e delle cose in genere e ne hai piena ragione le quattro classiche dimensioni non bastano a decifrare l'enigma della creazione e il senso della vita e dell'amore il mistero dell'ogorio e della fine delle cose il perché delle catastrofi e delle catene alimentari la tragedia della morte e le questioni escatologiche dell'aldilà potrà intravedere tutto questo attraverso la quinta dimensione o eternità creata scorgerà è la stupefacente logica della creazione per questo il nostro dio ha permesso che tu oggi intraveda oggettivamente questo inedito parametro del cosmo e tale è la ragione del nostro viaggio nel passato il libro di tenera amata da adesso in poi terrà non conto di più di questa quinta dimensione che è la sua caratteristica peculiare che sconvolge alcuni nostri canoni vedremo che più avanti tenera amata addirittura afferma che ci sarà un giorno in cui queste cose diventeranno magistero della chiesa ma è ovvio che al momento suonano come una bomba dirompente e fondamentalmente nuova anche se come tutte le rivelazioni private nuova sempre entro certi limiti non del tutto nuova perché si appoggia evidentemente a delle realtà già ampiamente esistenti nella rivelazione vedremo che poi insieme all'eternità creata c'è anche l'eternità increata che è il mondo di dio perché dio è eterno ed è increato non è una creatura e quindi lui vive in questa dimensione che certamente scorre insieme all'eternità creata ma che la trascende che è la sua che è l'eternità increata riprendo la lettura l'eternità creata o quinta dimensione dà fondamento agli altri assi di coordinate dell'universo e li spiega è il parametro che insieme con la lunghezza la larghezza l'altezza e il tempo attenzione spiega la persistenza definitiva e senza termine di ogni essere sin dall'inizio della sua esistenza in quanto tale ma di tutto l'essere completo tutto l'essere completo familiarizziamoci con questi termini quindi persistenza definitiva e senza termine di ogni essere dall'inizio della sua esistenza in quanto tale ma di tutto l'essere completo includendo tutto ciò che gli è accaduto nel trascorso del tempo e con tutte le sue tappe evolutive l'eternità creata è come il magazzino meglio ordinato che conserva perpetuamente e realmente tutta la storia dell'universo allora faccio una prima spiegazione come dire preventiva probabilmente questi concetti poi ritorneranno però allora per capire meglio questo discorso dell'eternità creata noi dobbiamo avere presenti dei concetti che sono filosofico metafisici mi si perdono il termine sono metafisici sono ok allora Dio è l'essere l'essere è semplicemente ciò che è e sappiamo che l'essere di Dio è un essere eterno increato e immutabile come Dio rivela a Mosè chi è Dio? io sono colui che sono l'essere allo stato puro quello che i filosofi già greci pensando a a un qualche cosa che ci sovrastasse dicevano Dio è l'essere e dicevano bene attenzione quando Dio esce fuori di sé e crea qualcosa e crea qualcosa cosa che non è obbligato a fare ma che fa liberamente che cosa fa di fatto comunica il suo essere fuori di sé certamente creando dal nulla ma una volta che quella cosa è creata dal nulla l'essere lo ha ricevuto da Dio tant'è vero che Dio compie nei confronti di questo soggetto chiunque sia dalla pietra fino all'angelo due operazioni primo crearlo quindi dargli l'essere chiamarlo all'esistenza e secondo conservarlo nell'esistenza ora ecco uno dei punti di contatto con la divina volontà per esempio qual è il punto? una cosa che è uscita dalle mani di Dio non può finire e non può tornare nelle mani non può tornare nel nulla non è possibile non è possibile perché una volta che l'essere lo riceve da Dio Dio non glielo toglierà mai perché toglierglielo sarebbe in un certo senso neanche troppo remoto rinnegare se stesso questo Dio non lo farà mai la creatura specialmente quella intelligente può corrompersi può diventare cattiva e per questo ci saranno delle conseguenze anche gravi ma l'essere non glielo toccherà mai nessuno e attenzione l'essere integrale che lui e che quella certa creatura ha così come è stata creata da Dio e qui vedremo anche durante queste conversazioni come intendere la nostra morte corporale e qui cambieranno alcuni parametri attenzione di che cosa succede quando muoio e dopo che succede lo vedremo intanto Riccardo risponde mi pare impossibile ciò che dici ti sto esponendo la verità ma tu la respingi a priori come la pallina in un gioco di ping pong non chiudere a priori la tua mente alle nuove idee scientifiche purché non siano in contrasto con la divina liberazione ti consiglio di studiarle prima attenzione a questo passaggio quest'uomo chiaramente si sta trovando riceve la rivelazione di una cosa che dice ma no non è possibile stai calmo prima di dire così e anche le nuove idee scientifiche quando non contrastano con la rivelazione studiatele prima di prima di rifiutarle a priori vedete come tenera mate invita a fare una cosa che io modestamente modestamente umilmente cerco di fare in continuazione di raccomandare cuore e menti sempre aperte la realtà è una cosa molto grande Dio è immenso poi cioè noi se ci cominciamo a fissare o chiudiamo cuore e mente ci mettiamo da soli out ed è una grande disgrazia ma proprio grande quindi mente e cuore aperti non dobbiamo avere paura di confrontarci con qualche cosa che magari ci va anche a cambiare qualche connotato perché se c'è da cambiarlo qualche connotato lo cambiamo e dice no non si può cambiare questa cosa perché e poi chi lo sa che succede e poi questa cosa contraddice per esempio pensiamo alle persone che si irrigidiscono perché loro percepiscono una certa cosa come contraria alla rivelazione ma è tutto da dimostrare che lo che lo sia aspetta prima di cioè c'è sempre tempo per dire di no aspetta prenditi un po' di tempo pensaci un po' quante cose che cambierebbero amici miei anche nella vita di tante persone se si imparasse a fare questa operazione quante stupidaggini in meno si farebbero quante cantonate in meno si prenderebbero va bene riprendo la lettura l'esistenza di un essere qui tenera amata spiega te stesso ad esempio potrebbe paragonarsi attenzione adesso ad un gran mazzo di carte da gioco mi sono stata soltentato di andarla a prendere adesso di mettere davanti al video perfettamente cronologicamente accomodate ogni carta equivarrebbe attenzione a ciascun atto di esistenza ad ogni evento ad ogni momento del passato storico di tale essere tuttavia l'osservatore l'uomo mortale l'uomo mortale cioè in questa condizione con la sua coscienza legata al trascorso dell'istante attuale da cui non ci possiamo liberare fino a quando siamo in questa vita questo punto che è di evidenza empirica ma è di una importanza capitale perché ci fa capire tutta la nostra limitatezza fino a quando siamo qui intrinseca e ineluttabile allora che succede se tu sei legata al trascorso dell'istante attuale vedi solo l'ultima carta quella che corrisponde al momento presente ma dietro nel magazzino del tempo passato si troverebbero tutte le altre carte e in un ordine ben preciso esse costituirebbero attenzione la storia eterna reale e vivente di tale essere e Riccardo risponde che peccato che io non possa mescolare le carte della mia esistenza cioè noi vediamo sempre l'ultima fino a quando siamo e l'ultima cambia in continuazione perché mano a mano che passano i secondi si va aggiungendo qualche carta sopra è tutto quello che c'è prima non lo possiamo né vedere con chiarezza né tantomeno riviverlo ce lo siamo già detto e non possiamo neanche andare a vedere le carte che scopriremo tra vent'anni non le vediamo adesso però Riccardo comincia un attimo a capire qualcosa e dice che peccato che io non possa mescolare le carte della mia esistenza e Teneramata risponde lo farai quando raggiungerai la beatitudine per adesso stai vedendo la carta che corrisponde alla tua età di otto anni cosa hanno fatto di fatto entrando nella quinta dimensione si sono retrodatati per quanto riguarda lo scorrere del tempo a otto anni non so mi risulta difficile credere in questa eternità creata ti aiuterò con una similitudine per calcolare dove si trova un treno basta conoscere la distanza e il tempo non occorre sapere l'altitudine come succede nella posizione di un aereo mentre la locomotiva non si trasforma in aereo sono sufficienti le coordinate della distanza e del tempo per calcolare dove è il treno sarebbe però un grave errore proseguì con celeste pazienza negare l'esistenza dell'altezza sul livello del mare soltanto perché il macchinismo del treno non l'adopera per fare il calcolo della sua posizione ebbene per vivere la vita mortale ti bastano le tue quattro coordinate ecco perché facciamo difficoltà a conoscere a capire queste cose perché per quanto riguarda la vita terrena altezza lunghezza larghezza approfondita e tempo basta ne avanzano ma siccome ti bastano e ti avanzano come la locomotiva sul treno diciamo siccome io cammino non volo quindi cammino quindi mi basta la velocità e il tempo per sapere dove sto scusate la distanza e il tempo ma che significa questo qui che non esiste il livello una possibilità di elevarsi quindi di di contare lo spazio mille metri d'altezza 2000 metri d'altezza soltanto perché a me e io che ce faccio tanto io cammino sulle rotaie che ce devo fare con questi parametri niente ma questo non è motivo sufficiente per dirti che non esistono non ti servono allo stato attuale ma non è che non esistono l'uomo mortale prosegue tenera amata non usa mai in pratica la quinta dimensione perché vive con la coscienza legata al momento presente come la locomotiva alle rotaie e a causa del castigo divino al peccato originale e per l'attuale regime di fede attenzione a queste parole è nell'incapacità di servirsi liberamente della quinta dimensione di verità creata a causa di cosa? a causa del castigo divino al peccato originale e per l'attuale regime di fede quindi questa realtà la intuisce appena ma già la desidero la desidera senza riuscire a comprenderla bene Riccardo obietta io non comprendo né desidero questa quinta dimensione e tenera la mata gli risponde ma certo che sì la fame di eternità dovunque si manifesta e comincia a fare un po' di esempi il vigoroso istinto di conservazione i giuramenti di amore perenne noi se amiamo qualcosa o qualcuno desideriamo nel cuore che quella cosa non finisca mai cioè se io amo qualcosa o qualcuno e mi si mette la prospettiva che un domani potrei perderla io starei male no il desiderio di stabilità del focolare domestico la fermezza architettonica dei monumenti eretti a grandi ideali la tendenza a conservare la buona fame e la ricchezza l'evocazione dei ricordi belli grati il mantenimento degli affetti il collezionismo l'odio verso lo scuro buco della morte dimostrano l'amore e il bisogno della quinta dimensione sono prove indirette della reale esistenza dell'eternità creata dopo la buona morte attenzione che succede dopo la buona morte l'uomo glorificato ricupera la libertà fisica l'impero sulla natura perduto a causa del peccato del mondo e allora succede come se ad un tratto la locomotiva del treno acquistasse le caratteristiche dell'aereo il beato comprende l'eternità creata la vive in tutta la sua pienezza ed esercita il dominio su di essa e gode indicibilmente nel sentirsi eterno e nel contemplare eterni i suoi simili le sue cose amate e l'universo intero non è che la quinta dimensione verrà solamente dopo i tempi l'eternità creata è già qui qui e adesso nel presente attuale obietta Riccardo a me non mi entra nella testa l'eternità degli esseri l'eternità degli esseri attenzione a questa a questa espressione è perché nella tua mente attenzione a questo o mi raccomando attenzione a questi a questi passaggi qui siamo in passaggi molto molto delicati è perché nella tua mente qui tu separi il tempo dallo spazio tu pensi che il tempo passa dove siamo tutti ma non lo spazio e ti sbagli facciamo un esempio state vedendo questo video sono passati 22 minuti e 30 secondi da quando ho cominciato però dietro le mie spalle di questa stanzetta della canonica è tutto uguale quindi il tempo è passato giusto ma lo spazio è rimasto immobile quindi dentro la nostra testa lo spazio e il tempo sono due dimensioni lo spazio poi ne comprende tre altezza lunghezza e profondità separate ma nella realtà non lo sono dice Teneramata e spiega tu pensi che il tempo passa ma non lo spazio e ti sbagli ti voglio chiarire che cos'è lo spazio tempo quando uno finisce con questo libro non parlerà più di tempo ma parlerà sempre di spazio tempo nell'universo oggettivo della realtà il tempo e lo spazio sono inseparabili attenzione il tempo e questa è la soluzione di un grande immaginate i filosofi quanto si sono scervellati sul problema del tempo chi conosce la filosofia lo sa pensiamo alle pagine che ha scritto Sant'Agostino molto difficili tra l'altro sul tempo se si chiedevano ma il tempo è semplicemente un'unità di misura convenzionale o è qualche cosa che esiste realmente e sta realmente nelle cose guardate che non è una sciocchezza e Teneramata risponde il tempo non è solo il parametro che misura il movimento degli esseri era una delle finizioni storiche del tempo il tempo è la misura del movimento filosofica no è sbagliato la verità è che il tempo è realmente nelle cose non esiste separato da esse perché i corpi attenzione ecco le ecco le conquiste della scienza moderna sono fatti di materia ed energia e movimento e il movimento ha bisogno necessariamente del tempo allora qui dietro sembra che è tutto fermo ma non lo è ma questo lo sappiamo da dopo Einstein perché tutto quello che vedete dietro di me la scrivania il quadro di Santa Gemma Calgani la porta l'armadio è composto di atomi capito e gli atomi non stanno fermi mai questo spero che lo sappiamo cioè qui un minimo io penso però a scuola io ho studiato tanto però penso che pure alle scuole medie si dia un'infarinatura che si spiega che la materia è fatta di atomi che l'atomo è la particella elementare della materia ma l'atomo è in movimento perché nell'atomo come tutti quanti sappiamo ci stanno gli elettroni che girano intorno al nucleo non stanno fermi gli atomi sembra che stiano fermi questo è come il discorso che ci siamo già fatti che noi stiamo viaggiando da 108 mila chilometri all'ora intorno al sole e 1800 intorno a noi stessi ci dovrebbe venire un mal di testa che non finisce mai e sembra che stiamo fermi chiaro? è vero che il tempo è strettamente legato al movimento e lo misura ma siccome non esiste nulla di ciò che è creato che non è in movimento ecco che il tempo è nella realtà stessa delle cose perché ogni movimento ha bisogno del tempo perché deve essere deve può e deve essere misurato e non può compiersi al di fuori del tempo ogni atto di esistenza come può essere un cambiamento di forma un fenomeno fisico il fare un passo una reazione chimica qualsiasi movimento una reazione chimica che noi non vediamo è un movimento è un movimento e quella determinata cosa avviene in un preciso spazio-tempo indissolubile e scendibile non credere che passa solo il tempo e che lo spazio rimane immutabile no certamente no questa è un'illusione dei sensi la grande realtà oggettiva è che il tempo trascorre insieme con lo spazio che corrisponde a tale atto di esistenza quando l'orologio segna il passo di un secondo non è passato solo il tempo ma è trascorso anche lo spazio materiale corrispondente vi faccio un esempio 30 secondi fa stavo leggendo questa frase quando l'orologio segna il passo di un secondo non è solo passato il tempo attenzione questa cosa non è successa soltanto 30 secondi fa ma quella cosa è successa 30 secondi fa dentro questa stanza perché il tempo non è che io mi trovo qui adesso e non posso essere momentaneamente in nessun altro posto piuttosto che qui non posso come fanno i beati fare un bel volo come hanno fatto loro alla velocità di molto superiore a quella della luce e trovarmi in un posto diverso o in un'epoca storica diverso posso fare perché perché sto legato perché c'è il peccato originale perché c'è il castigo del peccato originale quindi capite indirettamente per questo che ho detto attenzione che queste catechesi sono tutte quante collegate sia a quelle dell'anno scorso sia alla divina volontà vi faccio un esempio per chi conosce la divina volontà le ore della passione cosa dice Gesù quando le spiega quando si fanno le ore della passione e quando quando si agisce nella divina volontà non è semplicemente ricordarmi quello che Gesù ha sofferto per me duemila anni fa no no quello che Gesù ha sofferto duemila anni fa è in atto e non è in atto semplicemente perché Gesù è Dio è in atto perché è in atto nell'eternità creata io adesso non la posso superare la barriera che mi separa da qui a quando Gesù ha sofferto ma la divina volontà con la divina volontà è un gioco da ragazzi perché la divina volontà comprende comprende nel senso filosofico non nel senso del comprendere intellettualmente ma tiene in sé tutto ciò che è stato che è che sarà quindi fare l'ora della passione non è rievocare ma è esattamente fare tutte quelle cose che Luisa scrive cioè bacio Gesù sta soffrendo ti bacio la mano destra ti bacio la mano sinistra attenzione che Gesù quelle cose le sente capite il collegamento le sente dice ma come io sto qua e quello stava le sente perché grazie alla divina volontà si ha anche in modo che non ce ne viene la percezione sensibile questi bug questi separatori spazio temporale io li posso superare chiaro di essere stato chiaro spero qui chiaramente capirà qualcosa che conosce gli scritti di Lisa Piccarreta però pensiamo anche al guaio del peccato originale che ha dei chesi dell'anno scorso capito di che cosa ci siamo privati perché avremmo avuto da quello che dice Tener Amato il dominio della quinta dimensione anche qui e alcune cose che fanno parte della gloria accidentale le avremmo avute quasi certamente anche qui pensiamo a quello che ha detto un po' di tempo fa Tener Amata era forse la fine di due puntate fa che abilice avete in paradiso non ti scandalizzare noi in paradiso gli abiti non ce li abbiamo non servono chi è che non aveva gli abiti secondo la saga scrittura l'uomo innocente e la donna innocente giusto? Allora lo spazio-tempo dell'istante attuale lo spazio-tempo dell'istante attuale è l'unica occasione per realizzare cambiamenti questo pensate le implicazioni di questo di questo concetto no? ma basti pensare al Salmo 94 oggi ascoltate la sua voce ti devi convertire quando è il momento propizio? Subito ti manda il Signore un'ispirazione metti la pratica subito perché è l'istante attuale l'unica occasione per realizzare cambiamenti tu non puoi dire lo faccio domani perché non ti appartiene l'istante attuale di domani ti appartiene l'istante attuale di adesso per cui se il nostro Signore ti manda una buona ispirazione e ti chiama falla subito non aspettare faccio queste attualizzazioni perché così capiamo cioè che questi non sono discorsi astratti e astrusi ci sono delle implicazioni molto molto concrete vedete l'istante attuale è il punto critico è l'unico punto posto terreno dove avviene l'amore il desiderio il gaudio il dolore la morte ma il fenomeno una volta effettuato persiste immutabile con la sua materia la sua energia e il suo spazio tempo nella grande bottega della quinta dimensione cioè se io prendo la mia morusa e gli do un bacetto così questo bacetto glielo ho dato in un certo istante quindi in un certo spazio tempo quel bacetto glielo ho dato sembra che sia passato ma in quello spazio tempo corrispondente rimane non si dissolve questo l'aveva capito pure Einstein con nulla si crea il nullo si distrugge tutto si 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 trasforma il fenomeno spiega Ternamato una volta effettuata effettuato persiste immutabile con la sua materia energia spazio tempo nella grande bottega della quinta dimensione già che ha attraversato il pericoloso scenario del momento presente uscito da da quel posto che poteva in che senso il pericoloso scenario quel bacetto potevo non darglielo e quindi quella cosa non ci sarebbe mai stata no? quindi pericoloso scenario perché l'istante presente è il luogo dell'esercizio della libertà e bisogna vedere che cosa combiniamo nei singoli istanti presenti che si succedono nella nostra esistenza l'istante attuale è la fabbrica degli atti di esistenza buoni o cattivi che nella vita futura serviranno ad una migliore beatitudine o ad un maggiore o proprio dal cielo contemplerai i monumenti dell'antichità dalla loro erezione fino al crollo perché l'esistenza si conserva in colume negli innumerevoli spazi tempi trascorsi ed immagazzinati nella quinta dimensione ma vi faccio un esempio tutti quanti sanno che padre Pio aveva il dono della conoscenza del futuro quelli che conoscono il futuro sono esistiti nel corso della storia domanda domanda come si fa a conoscere il futuro cioè dice vabbè è un dono di Dio certo che è un dono di Dio per carità Dio lo può fare come meglio crede no? ma qual è il discorso? che l'eternità increata che è quella divina contiene in sé l'eternità creata e Dio nella sua prescienza conosce tutto quello che accadrà nell'eternità che mano a mano che si va compiendo per noi diventa eternità creata istante dopo istante e quindi per lui è un gioco da ragazzi padre Pio diceva come fai a conoscere queste cose? lui rispondeva Dio ogni tanto mi fa leggere nel suo libro suo libro che un giorno in parte almeno diventerà il nostro libro è anche un grave errore supporre che il divenire si annichila ma manco per niente ti aiuterò con un'altra similitudine come la macchina da cucire va ricamando e i punti si conservano minuziosamente ordinati sulla stoffa così l'uomo ricama nel passare col lago del momento presente sulla stoffa della sua volontà guardate eh e col filo della legge del Signore e secondo il suo disegno sul viatore la costura della sua esistenza quindi attenzione lago è il momento presente la stoffa è la nostra umana volontà il filo è la legge del Signore se vogliamo costruire una bella veste nuziale e il disegno perché c'è un disegno per fare è è il disegno di Dio sul viatore che c'è il nostro Signore il saliscendi del lago rappresenta l'istante attuale il punto significa il momento che si effettua l'atto di esistenza l'atto di esistenza significa quello che tu stai facendo adesso io adesso il mio atto di esistenza sto parlando per capire che è un atto di esistenza sto parlando sto facendo una catechesi speriamo che non sto parlando a bambera sto parlando davanti ad un computer che so benissimo essere connesso ad internet e per cui ci sono 184 persone in questo momento che mi vedono in diretta e lo so e altre che mi vedranno in differita e che ascolteranno queste cose in differita questo è l'atto di esistenza che io sto compiendo in questo momento chi sta ascoltando sta ascoltando sta ascoltando magari in contemporanea vede uno schermo quindi vede la mia faccia e sa che io cioè certamente che ci sono veramente quindi che sto parlando realmente chi sta seguendo la diretta su telegram ovviamente l'atto l'atto di esistenza una volta realizzato è lo spazio-tempo che conserva l'azione compiuta e che si aggiunge preciso agli altri per formare il lavoro allora sempre per fare un esempio per farvi capire oggi è il 18 novembre giusto? sì io sto a sermonita e sono le 20 le 22 e 17 sta catechesi è cominciata alle 21 e 3 tra poco finirà d'accordo? il nostro tempo ma per tutta l'eternità il 18 cioè questo spazio-tempo che si è venuto costruendo con quello che ho fatto in questo rimane rimane così come tu che sei stato a passare questo tempo speriamo che sia tempo un bel peso ascoltare quello che dico questo rimane questo qui passerà per te perché quando ci salutiamo tu continuerai a vedere l'ultima carta del mazzo di carte ma dietro questa cosa rimane non finisce allora quindi è lo spazio-tempo che conserva l'azione compiuta e che si aggiunge preciso agli altri per formare il lavoro e il lavoro sta a raffigurare l'uomo per intero e tutta la sua storia la bellezza del ricamo quindi sarà un bel lavoro con la nostra vita dipende e risulta dalla libera collaborazione virtuosa in amore di carità della stoffa della volontà umana col filo della volontà divina e il capolavoro si conserva per sempre nell'astuccio inviolabile della quinta dimensione tuttavia tenere amata attenzione perché qui è sottile questo lo pensiamo tutti quanti quando una cosa si trasforma lascia di essere quello che era diventa un'altra cosa ecco dov'è l'errore rispondere ecco dov'è l'errore ti ingannano i sensi ti presentano le trasformazioni le distruzioni e la morte degli esseri come eventi definitivi e irreversibili perché te li presentano dalla prospettiva dell'istante attuale cioè devo prendere qualcosa evidenziatore se io tolgo il tappo e supponiamo che me lo mangio o lo butto dico ah questo questo evidenziatore è rimasto senza il tappo non c'è più non c'è più da questo momento in poi ma quando io ho preso fino a tre minuti fa fino a tre minuti fino a 30 secondi fa il tappo c'era allora sentiamo te l'è ramata non ti lasciano vedere i sensi che lo spazio materiale che trascorre insieme che lo spazio materiale trascorre insieme col tempo cadi nella trappola che il legame della tua coscienza col momento presente la suggestione la suggestione collettiva degli schemi mentali erronei ma molto radicati e la tua atavica ignoranza ti tendono tu confondi infantilmente il passato che non ti è più possibile guardare col presente che stai osservando purtroppo è che essendo viatore non puoi fermarti nella corsa degli spazi tempi non possiamo fermarli non possiamo fermarci continui continui sempre al galoppo cavalcando ben legato sul veloce destiliero del tempo normale della terra l'istante attuale senza nemmeno la possibilità di girarti a contemplare a tuo piacimento il maestoso orizzonte della persistenza di tutti gli spazi tempi delle cose che hai appena lasciato indietro e allora è chiaro tu concludi che il passato remoto finì perché non lo vedi più e che il passato più prossimo quasi si fonde con l'istante attuale perciò ti risulta difficile accettare l'esistenza perenne del tuo corpo infantile qui sta tornando a quello che sta vivendo Riccardo dice ma com'è possibile che che io torno indietro e che c'è quel bambino di otto anni che sembra che sembra che sia vero tu confondi l'organismo che possiedi nel momento presente con la ininterrotta serie di fasi di sviluppo biologico fin dal tuo concepimento e se racchiudono in minuzioso ordine cronologico la innumerevole quantità di atti di esistenza corrispondenti agli spazi tempi che ti è toccato vivere e tutto questo perdura sempre vivo senza fine nell'imponente realtà oggettiva della quinta dimensione capite cosa sta dicendo che tutta che tutta la nostra vita passata è e quando sarà il momento io la posso rivivere istante per istante tutta fin nei minimi dettagli ricardo esclama è inconcepibile che i miei sensi sbaglino fino a questo punto che risponde terra amata secondo voi così avviene a causa del peccato così puoi incominciare a percepire un po' la trascendenza del male morale cioè voi capite quello che sta dicendo la trascendenza del male morale cioè tutta tutta questa nostra incapacità di raccapezzarci niente con queste cose qui dipende dal peccato ma voi immaginate quanti esseri umani hanno la percezione di questo qui nei viatori è facile l'inganno sensoriale per esempio nella stazione ferroviaria delle volte un treno incomincia a muoversi con tanta suavità che non si avverte tutti quanti ci abbiamo fatto caso no? avete visto no? delle volte che succede uno sta alla stazione e sta vicino ad un altro treno si gira e vede un movimento non vi è mai capitato di confondervi cioè uno pensa che è partito il treno d'Europa invece poi si accorge di se no io sto fermo dall'altra parte è partito quell'altro e viceversa se tu guardi dal finestrino e osservi un altro convoglio sul binario appresso appunto non riesci a sapere quale treno è fermo e quale movimento ti occorrerebbe un punto di riferimento devi guardare dall'altra parte un palo per esempio se lo vedi dall'altra parte e così capisci chi è che si muove e chi è che sta fermo ma purtroppo per te non c'è un punto di riferimento per convincerti che il binario non si annichila ma si conserva negli esseri sebbene ti sembri che succeda il contrario attenzione qui noi anche quando faremo le domande cioè dobbiamo entrare in un orizzonte stiamo lottando contro una cosa che per noi è assolutamente inevidente cioè evidente assolutamente il contrario e in questo senso però siamo un pochino aiutati nell'essere uomini e donne di fede perché noi vivendo nella fede noi stiamo in continuazione facendo degli atti di punto di fede perché l'evidenza dei sensi ha nelle cose della fede è un inganno continuo chi ci crede veramente per esempio nell'eucaristia e si comporta di conseguenza sa bene che quello non è un pezzo di pane però i sensi ti attestano il contrario perché i sensi attestano il contrario perché quella cosa non cambia non cambia forma non cambia odore non cambia colore non cambia sapore non cambia consistenza tutto ti dice il contrario di quello che è tutto pensate che io vedo l'ostia consagrata esposta solennemente nel tabernacolo lì c'è Gesù Cristo Dio vivo e vero questo dice la Chiesa questo dice la fede non è che c'è c'è il corpo di Cristo quindi ci starà che ci starà un pezzetto di cuore no no attraverso la presenza sacramentale della sostanza della carne certamente del corpo di Cristo è presente tutto Cristo tutto intero qualcuno potrebbe dire ah ah certo è evidente che è così no è evidente il contrario questo prosegue lo vedrai nel cielo però disse il raggiante di gioia contemplerai la storia dell'universo come se fosse un enorme album di fotografie potrai contemplarle in qualsiasi ordine non solo cronologicamente così come accadero ma anche prima le ultime e poi le prime o confrontarle indistintamente a tuo piacimento ma nella quinta dimensione però attenzione non si guardano ritratti cioè si contempla la realtà stessa sempre perenne non sono fotografie non sono ricordi sono realtà vivibili e contemplabili nel cielo non esiste l'incatenamento della tua coscienza col momento attuale non c'è più né il bisogno delle classiche nozioni puramente soggettive del presente del passato e del futuro perché? perché si entra nella dimensione della eternità la vita eterna questo lo dice uno nel credo questi si intrecciano a seconda che vogliamo e ci servono da mezzi per aumentare i nostri godimenti nello sbaglio dei sensi qua sulla terra avviene come nella visione binoculare vedete qui fa riferimento a delle cose di fisica a parte che non sarei in grado di spiegarlo ho delle diminiscenze anch'io informi però le leggi dell'ottica qualche cosa dovremmo ricordarla ognuno dei tuoi occhi visione binoculare forma nella sua retina l'immagine di uno stesso oggetto allora dovresti vedere noi abbiamo due occhi giusto? se io sto guardando adesso lo schermo del computer sia la retina dell'occhio destro che la retina dell'occhio sinistro è impressa dall'immagine del computer e perché di computer ne vedo solo uno e non ne vedo due dovresti vedere due oggetti corrispondenti alle due immagini invece ne vedi uno solo però basterebbe fate la prova una leggera pressione ad uno dei tuoi globi oculari fatela questa cosa qua adesso e vedrete subito due immagini l'avete fatto? fatelo chiaro? in modo analogo quindi che cosa ti sta dicendo? tu adesso non lo vuoi vedere la eternità creata perché non c'hai il dito sull'occhio e non ce lo puoi mettere dopo si in modo analogo appena contempli quello che succede nel momento presente dal momento che come ti dicevo la tua coscienza si trova legata al decorso dell'istante attuale indebitamente giudichi che questo costituisce tutto il vero mentre invece ti fa vedere solo la piccola verità del momento presente non confondere la fugace evidenza piccola e incompleta che ti offrono i sensi nel momento presente con la grande realtà oggettiva e perenne dell'eternità creata o quinta dimensione è un vero peccato che tu non possa constatare l'esistenza dell'eterno magazzino di tutti gli esseri nel tuo stato di viatore la massima prova possibile è questo che contempli in questo paratempo ebbene per acquistare la certezza morale non l'evidenza assoluta che per i viatori è impossibile non serve la leggera pressione di uno dei globi su di uno dei globi oculari invece può servire una prudente pressione sulla buona volontà affinché senza pregiudizi tu meriti l'esistenza e la trascendenza della quinta dimensione quindi quello che abbiamo fatto con gli occhi che serve a poco facciamolo sulla buona volontà vediamo come si aprono gli orizzonti e giungeremo dice non la certezza assoluta che è impossibile ma quella morale circa l'esistenza di questa quinta dimensione dice obietta Riccardo nonostante tutto se si rompe un bicchiere come bicchiere è finito e lei risponde no perché la rottura accade in un dato momento ho fatto l'esempio prima del pennarello che è stappo ma non nel momento anteriore né in tutto il tempo che il bicchiere fu bicchiere si spezzò nello spazio-tempo del suo ultimo atto di esistenza così cominciamo a capire un pochino cosa avverrà nel momento della nostra morte già si capisce da qui ma nella quinta dimensione conserva intatti tutti gli spazi tempi corrispondenti ai suoi atti di esistenza che ci è fatto quel bicchiere cambiamenti di posto di colore che ci hai messo dentro il vino la coca cola il whisky l'acqua i cambiamenti di posto di colore di contenuto di deterioramento e di uso già che lo fabbricarono dal momento che lo fabbricarono fino al momento che vorranno di rompersi quindi non è vero che quel bicchiere non c'è più cioè non è vero che è finito il bicchiere a un certo punto ha avuto un ultimo atto di esistenza ha cessato di essere bicchiere a un certo punto ma tutto quello che è stato è e rimane teneramata ma come si può evitare l'infausto inganno dei sensi risponde è molto semplice rimani sempre presso l'altissimo nella sua grazia in spirito e verità se l'inganno sensoriale compromettesse la tua salvezza eterna sei certo che lui provvederebbe al rimedio ma se l'inganno continuasse può essere certo che tale verità non ti è necessaria per raggiungere la beatitudine dopo la comprenderai nel cielo qui però il dovere di fare da parte tua è il più che puoi per uscire dall'errore gli inganni sono infiniti per esempio sapere che esiste la quinta dimensione queste cose belle non è necessario per andare in paradiso la conoscenza di queste cose ti fa soltanto aumentare il desiderio di andare in paradiso ma non è necessario perché per andare in paradiso bisogna stupare dieci comandamenti e professare alla fede divina e cattolica e basta perché chiama l'eternità creata questa quinta dimensione risponde abbiamo quasi finito forse sforiamo leggermente di un'ora però concludiamo sto discorso per distinguere dall'eternità assoluta dell'altissimo capirai che l'eternità creata non può essere il possesso attenzione non può essere il possesso totale simultaneo e perfetto di una vita senza termine attenzione che questa definizione dell'eternità creata è molto simile per chi conosce la filosofia quella di Boezio siamo nel primo millennio avanti Cristo ciò corrisponde all'eternità immutabile esclusiva del nostro Dio attenzione ripetiamo che cos'è l'eternità immutabile del nostro Dio possesso totale simultaneo attenzione perfetto di una vita senza termine questo è il mondo di Dio gli esseri creati hanno molte limitazioni perdureremo per sempre ma la nostra esistenza ebbe un inizio ed innumerevoli cambiamenti che in Dio non ci stanno Nemia 9,5 proclama queste nozioni su alzatevi e benedite il Signore vostro Dio dall'eternità creata all'eternità increata io attenzione ho notato qui a caratteri che il testo ebraico dice proprio così dall'eternità creata all'eternità increata Nemia 9,5 ci ho notato questa cosa vuol dire che mi sono andato a leggere l'originale ebraico per vedere ma dice proprio così si dice proprio così alzatevi e benedite il Signore vostro Dio dall'eternità creata all'eternità assoluta ma d'altronde l'eternità increata l'eternità creata scusate non è il contrario del tempo già che il tempo e la quinta dimensione sono parametri coesistenti persisteremo senza fine sin da quando incominciano la nostra esistenza ma sempre ci situeremo in qualche frequenza temporale il nostro organismo glorificato non può vivere in uno stato temporale ecco perché il tempo è nell'essere stesso delle cose create non in Dio perpetuamente staremo passando dal desiderio all'immediato possesso del ben amato dalla potenza all'atto Aristotele qui purtroppo amici miei c'è stato tutto qua dentro l'alta filosofia l'alta metafisica e pure l'alta scienza quindi questo è un testo che non è che è tanto tanto semplice in alcuni passaggi solo il creatore è atto puro adesso per spiegare questa cosa qui dovrei fare una lezione di un'ora di metafisica aristotelica quindi magari lo riprendiamo la prossima volta moriamo appunto nel cielo siamo liberi per scegliere tra due beni ma non tra il bene e il male poiché la nostra volontà persiste abbracciata al bene infinito e come sai la materia e l'energia non possono esistere senza la quarta dimensione o tempo riprendiamo la prossima volta da qui abbiamo sforato soltanto di un minuto appuntamento alla prossima settimana se Dio vuole come sempre con la mia benedizione e alla prossima e alla prossima e alla prossima